Le comunità energetiche rinnovabili e solidali, il ruolo dei consumatori produttori e degli enti locali. Si discuterà di questo il prossimo 30 giugno dalle ore 16.30 nei locali dell'auditorium comunale di Gioio Samarea. L'iniziativa è di Feder Consumatori in collaborazione con il comune di Gioio Samarea e No Square. Il convegno sarà coordinato dal presidente di Feder Consumatori Sicilia Alfio Larosa e sono previsti interventi di amministratori locali ed esperti per ribadire come le comunità energetiche, rinnovabili e solidali siano una grande occasione per tutti i cittadini. Da qui la necessità di informarsi su questo strumento per produrre energia pulita in modo solitario e comunitario. Ci abbiamo lavorato da sud perché ci crediamo, perché mette assieme il comune che può fare da collante, gli imprenditori e i cittadini, ma si potrebbero anche salvaguardare le fasce più debole, perché la comunità energetica prevede due tipi di risparmio, una che è legata al consumo e una che è legata alla produzione e anche al consumo. Vorremmo aprire una discussione con i villaggi, con tutte le strutture che ci sono, perché se loro aiuterebbero in questo senso a produrre energia pulita con i pannelli, potremmo fare una comunità energetica che permetta al paese di Gioio di risparmiare a tutti. Il giorno 30 è una data importante perché è il modo per far conoscere questo convegno serve. C'è la fede al consumatore che si è detta disponibile, essendo quella che tutela gli interessi del settore, dei cittadini in particolare, rispetto ai consumi, per dare una mano e quindi incentivare anche le persone che si rivolgono alla fede al consumatore che si può fare questo e questo permette anche di risparmiare a tutti.